Libro del profeta Ezechiele, capitolo 21 La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Figlio d'uomo, rivolgi la faccia verso il sud, parla apertamente contro il sud e profetizza contro la foresta della campagna, il Negev. E di alla foresta del Negev, ascolta la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, Ecco, io accendo in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e ogni albero secco. La fiamma ardente non si spegnerà e ogni faccia dal sud al nord sarà bruciata. Ogni carne vedrà che io, l'Eterno, l'ho acceso, non si spegnerà. Allora dissi Ah, Signore Eterno, essi dicono di me, Cossui non parla forse in parabole? La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta dicendo Figlio d'uomo, rivolgi la faccia verso Gerusalemme. Parla apertamente contro i luoghi santi e profetizza contro il paese di Israele. Edì al paese di Israele. Così dice l'Eterno. Ecco, io sono contro di te. Io estrarrò la mia spada dal suo fodero e reciderò da te il giusto e il malvagio. Poiché voglio recidere da te il giusto e il malvagio, la mia spada uscirà dal suo fodero contro ogni carne dal sud al nord. Così ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, ho estratto la mia spada dal suo fodero e non vi rientrerà più. Perciò tu, figlio d'uomo, gemi con i lombi rotti e gemi con dolore davanti ai loro occhi. E avverrà che quando ti domanderanno «Perché gemi?» risponderai. «Per la notizia che sta per giungere e ogni cuore si struggerà. Tutte le mani si indeboliranno, tutti gli spiriti verranno meno e tutte le ginocchia si scioglieranno come acqua. Ecco, la cosa giunge e si compirà», dice il Signore, l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo «Figlio d'uomo, profetizza e dì». Così dice il Signore «Dì, una spada. Una spada è affilata e anche lucidata. È affilata per fare un gran massacro ed è lucidata per lampeggiare. Potremmo forse noi rallegrarci?» Lo scettro di mio figlio disprezza ogni legno. Il Signore l'ha data a lucidare per impugnarla. La spada è affilata e lucidata per darle il mano di chi uccide. Gride e urla, figlio d'uomo, perché sarà usata contro il mio popolo, contro tutti i principi di Israele. Essi saranno consegnati in potere della spada insieme al mio popolo. Perciò percuotiti la coscia perché è una prova, dice il Signore, l'Eterno. E che cosa accadrebbe se la spada disprezzasse persino lo scettro? Essi non sussisterebbe più, dice il Signore, l'Eterno. Perciò tu, figlio d'uomo, profetizza e batti le mani. Lascia che la spada raddoppi e triplichi i suoi colpi. E la spada degli uccisi è la spada dei grandi uomini uccisi che penetrerà anche nelle loro camere segrete. Ho rivolto la punta della spada contro tutte le loro porte perché il loro cuore si strugga e molti cadano. Ah, è fatta per brillare e affilata per il massacro. Oh spada, sii spietata, volgiti a destra, volgiti a sinistra, ovunque è diretta la tua lama. Anch'io batterò le mani e acquieterò il mio furore. Io, l'Eterno, ho parlato. La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta dicendo Tu, figlio d'uomo, traccia due strade per le quali passi la spada del re di Babilonia. Partiranno ambedue dallo stesso paese. Metti un indicatore stradale. Mettilo all'inizio della strada che porta alla città. Traccia una strada per la quale la spada vada a Rabbà, città dei figli di Ammon, e un'altra perché vada in Giuda, contro Gerusalemme, città fortificata. Infatti il re di Babilonia sta alla crocevia della strada, all'inizio delle due strade, per fare divinazione. Agita le frecce, consulta gli idoli domestici, esamina il fegato. Nella sua destra il risponso della divinazione designa Gerusalemme per collocarvi gli arieti, per aprire la bocca e ordinare il massacro, per alzare la voce con grida di guerra, per collocare gli aretiri contro le porte, per innalzare terrapieni e per costruire torri. Ma per essi, questo sarà come una falsa divinazione agli occhi di quelli che hanno fatto loro giuramenti. Ma egli si ricorderà delle loro iniquità, perché siano presi. Perciò così dice il Signore, l'Eterno, poiché avete fatto ricordare la vostra iniquità, essendo le vostre trasgressioni messe a nudo e i vostri peccati palesati in tutte le vostre azioni, poiché siete stati ricordati, sarete presi dalla mano del nemico. E tu, o profano e malvagio principe di Israele, il cui giorno è giunto al tempo della punizione finale. Così dice il Signore, l'Eterno. Deponi il turbante, togliti la corona. La cosa non sarà più la stessa. Ciò che è basso sarà innalzato e ciò che è alto sarà abbassato. Devastazione, devastazione, io la compirò ed essa non sarà più restaurata finché non verrà colui a cui appartiene il giudizio e al quale io la darò. E tu, figlio d'uomo, profetizza e ti. Così dice il Signore, l'Eterno, riguardo ai figli di Ammon e riguardo ai loro obbrobio e ti. La spada, la spada è sguainata e lucidata per il massacro, per divorare, per lampeggiare, mentre hanno per te false visioni e fanno a te divinazioni bugiarde per metterti sul collo dei malvagi uccisi, il cui giorno è giunto al tempo della punizione finale. Rimetti la spada nel suo fodero. Io ti giudicherò nel suo luogo, stesso, dove fosti creata, nel paese della tua origine. Riverserò su di te la mia indignazione, soffierò contro di te nel fuoco della mia ira e ti consegnerò in mano agli uomini brutali, artefici di distruzione. Sarai preda del fuoco e il tuo sangue sarà sparso in mezzo al paese. Non sarai più ricordata, perché io, l'Eterno, ho parlato. Libro del profeta Ezechiele capitolo 21 Libro del profeta Ezechiele capitolo 22 La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Ora, figlio d'uomo, non giudicherai tu, non giudicherai la città sanguinaria? Falle dunque conoscere tutte le sue abominazioni. Poi di, così dice il Signore, l'Eterno. La città verse il sangue nel suo mezzo per far venire il suo tempo. Inoltre, fai idoli contro se stessa per contaminarsi. Per il sangue che hai versato ti sei resa colpevole e ti sei contaminata per gli idoli che hai fatto. Hai fatto avvicinare i tuoi giorni e sei giunta al termine dei tuoi anni. Perciò ti renderò il vituperio delle nazioni e lo scherno di tutti i paesi. Quelli che sono vicini e quelli che sono lontani da te si faranno beffe di te o contaminata di fama e piena di disordine. Ecco i principi di Israele. Ognuno ha usato il suo potere per versare il sangue in te. In te si disprezza il padre e la madre. In mezzo a te si opprime lo straniero. In te si maltratta l'orfano e la vedova. Tu hai disprezzato le mie cose sante e hai profanato i miei sabati. In te c'è gente che calunnia per versare sangue. In te c'è chi mangia sui monti. In mezzo a te si commettono scelleratezze. In te si scopre la nudità del padre. In te si umilia la donna durante la sua impurità. Uno commette abominazione con la moglie del suo prossimo. L'altro contamina l'indigesto la sua nora. Un altro ancora in te umilia sua sorella, figlia di suo padre. In te si ricevono regali per versare il sangue. Tu esigi interesse ad usura. Hai realizzato guadagni dal prossimo con inganno e hai dimenticato me, dice il Signore, l'Eterno. Ma ecco, io batto le mie mani per il disonesto guadagno che hai fatto e per il sangue versato che è in mezzo a te. Potrà reggere il tuo cuore o potranno rimanere forti le tue mani nei giorni in cui agirò contro di te. Io, l'Eterno, ho parlato e lo farò. Io ti disperderò fra le nazioni, ti disseminerò per i paesi ed eliminerò da te la tua immondizia. Tu profanerai te stessa agli occhi delle nazioni e riconoscerai che io sono l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Figlio d'uomo, la casa di Israele è diventata per me tutta scorie. Sono tutti bronzo, stagno, ferro e piombo in mezzo a una fornace. Sono diventate scorie d'argento. Perciò così dice l'Eterno il Signore Poiché siete tutti diventate tante scorie ecco io vi radunerò in mezzo a Gerusalemme come si raduna argento, bronzo, ferro, piombo e stagno in mezzo alla fornace e si soffia su di essi il fuoco per fonderli così nella mia ira e nel mio furore vi radunerò e vi metterò là e vi fonderò vi radunerò e soffierò su di voi col fuoco della mia ira e voi sarete fusi in mezzo ad essa come l'argento è fuso in mezzo alla fornace così voi sarete fusi in mezzo alla città e riconoscerete che io l'Eterno ho riversato su di voi il mio furore la parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo figlio d'uomo Dio a Gerusalemme tu sei una terra che non è stata purificata o bagnata da pioggia in un giorno di indignazione la cospirazione dei suoi profeti nel suo mezzo è come un leone rugente che sbrana la preda essi divorano la gente si appropriano di tesori e cose preziose accrescono le vedove in mezzo ad essa i suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante non distinguono fra santo e profano non fanno conoscere la differenza tra l'impuro e il puro e distolgono i loro occhi dai miei sabati per cui io sono profanato in mezzo a loro i suoi principi in mezzo ad essa sono come lupi che dilamano la preda per vestare sangue e distruggere anime per realizzare un disonesto guadagno i suoi profeti intonacano per loro con malta che non regge avendo visioni false e proferendo divinazioni bugiarde per loro e così dicono così dice l'essignore l'eterno mentre l'eterno non ha parlato il popolo del paese pratica l'oppressione compie rapine maltratta il povero e il bisognoso e opprime lo straniero violando la giustizia io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi ma non l'ho trovato perciò io riverserò su di loro la mia indignazione li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro via dice il signore l'eterno libro del profeta ezechiele capitolo 22 di due